Troppe ombre e una sola luce, quella derivante dall'aumento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le 44 pagine del verbale dell'ultimo tavolo di monitoraggio sulla sanità regionale, quello del 15 di novembre, secondo Forza Italia, sono una bocciatura senza appello per la gestione del sistema sanitario abruzzese da parte della giunta uscente di centrosinistra. Un documento, continuano gli azzurri, arrivato nelle mani dell'opposizione, oggi diventata maggioranza, soltanto ad elezioni concluse dopo quattro richieste da parte della Presidenza della Commissione di Vigilanza. Ma l'attacco più duro di Forza Italia è quello rivolto ai manager delle quattro asla abruzzesi. Sospiri non usa mezzi termini, le nomine conseguenti agli atti aziendali devono essere fermate. Perché il tavolo di monitoraggio che controlla la nostra attività di programmazione sanitaria, la nostra spesa, gli dice che gli atti aziendali, ovvero gli strumenti con cui la nostra sanità viene organizzata sul territorio, non sono confacenti all'organizzazione corretta delle reti dell'emergenza e urgenza e quindi si stanno producendo una serie di atti, di incarichi che poi alla fine sono fallaci e dovranno essere rimessi in discussione. Non apriamo contenziosi infiniti. La guerra è finita, al cielo sinistra la persa, c'è una nuova maggioranza di centrodestra che tra poco entrerà al governo, ci destra la possibilità di risolvere i problemi e di non accumularne ancora di più producendo dei contenziosi assolutamente inutili. La sanità deve servire a curare la gente, non a creare percorsi di carriera. Forza Italia, che nonostante le smentite di facciata punta all'assessorato alla sanità nella prossima giunta a Marsilio, promette che il centrodestra al governo della regione ripartirà dal risanamento dei conti in rosso della sanità, meno 43 milioni secondo gli azzurri, e dalla riscrittura completa della rete di emergenza e urgenza. Poi ci sarà la battaglia sul punto nascita di Sulmona, nel mirino la promessa del ministro della sanità Giulia Grillo in campagna elettorale, cioè tener aperto il nido pelinio, che per i tecnici del ministero però va chiuso. Quindi gli spiegheremo che tutte le chiusure non sono possibili e che la nostra rete dell'emergenza e urgenza deve garantire che in presenza del tempo dipendente per un ictus, per un infarto, per un grande trauma, chi abita nelle aree interne, così come chi abita nella costa, deve avere lo stesso livello di assistenza sanitaria. E a tutti quanti dobbiamo cercare di salvare la vita. Avete detto che i bilanci sono in perdita, quelli che lascia il centro-sinistra, come risanerete? Risaneremo intanto andando a vedere effettivamente come viene formata questa spesa sanitaria. Io credo che ci siano delle forme di efficientamento della nostra spesa che possono essere raggiunti, certamente non facendo venire meno i servizi sanitari.